Una rissa è scoppiata ieri mattina fra i membri di una famiglia all'interno del cimitero di Ponte Cagnano nel corso della riesumazione di un congiunto. Il tutto è nato da una lite che ha interessato due donne e che poi, dopo essersi accesa, ha coinvolto anche gli altri membri della famiglia presenti. Nella zuffa è rimasto ferito un agente della polizia locale, colpito mentre provava a sedare gli animi. Sul luogo dell'accaduto anche i carabinieri della locale stazione che hanno effettuato i rilievi del caso è provveduto a denunciare le due donne per resistenza a pubblico ufficiale.